Noi siamo i parenti di Matteotti, i miei figli sono due, uno frequente all'alimentare, uno ginnasio, non indosseranno mai la divisa fascista e non faranno mai il saluto fascista, quasi sempre i presidi, tremebondi, sì 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 signora, sì sì, siamo d'accordo, va benissimo così e quindi noi venivamo automaticamente liberati da questa disciplina, da questa forma di regime che aveva il suo risvolto negativo naturalmente perché all'interno della scuola eravamo come tutti gli alunni tranne qualche professore particolarmente, ma questo a livello di liceo, particolarmente idiota che veniva a scuola in divisa fascista, quindi un po' pesante, un po' greve, però il regime ormai si era irrobustito. A scuola eravamo tutti uguali, ci trattavano normalmente fuori del portone della scuola i compagni di banco, io avevo una compagna di banco tra l'altro simpaticissima e come me molto sportiva, non ci salutavano neanche più, perché la paura fa 90 e allora faceva proprio 90, quindi non ci salutavano più, non frequentavano la nostra casa, nemmeno che meno ci ospitavano a casa loro, quindi fuori del portone della scuola eravamo isolati. Nostra madre prese l'unica strada possibile e immaginabile che disse, ragazzi, questa è la condizione del regime che ci lasciava sopravvivere, certo, probabilmente il regime nazista ci avrebbero andato nei campi di sterminia e l'avremmo fatta finita. No, il regime fascista ci lasciava vivere sotto controllo, sotto stretto controllo, però contando sulla paura della società italiana noi vivevamo isolati, allora mia madre prese l'unica strada possibile, quella della lettura. Io dovevo fare qualcosa, non potevo stare a guardare, assolutamente non è proprio nel mio temperamento, io mi infogno sempre qualche cosa, piuttosto che niente me ne vado a cercare le cose. No, no, non è proprio nel mio carattere, io comunque, se anche non ci fosse stata la formazione giustizia e libertà, che era poi comandata da mio cognato, che era il marito di mia sorella, io comunque sarei andata con i garibaldini, io comunque sarei stata partigiana, io comunque avrei combattuto, non ti so dire come, con quali risultati, non posso saperlo, allora non potevo saperlo, lo so adesso, però comunque sarei, sì, fa parte del mio carattere, del mio temperamento.